L'avvertenza terme nella nuova puntata di Vesper, tra gli ospiti anche Angelo Capodicasa, era lui il presidente della regione che 18 anni fa diede il via da privatizzazione, in studio anche Alfredo Ambrosetti, Ignazio Cucchiara e Franco Zammuto. Protesta anche la Chiesa San Michele dopo la decisione di Unicredit di chiudere l'agenzia del Banco di Sicilia, ci sarà una raccolta di firme promossa al comitato di quartiere Sciacca Democratica e chiede un intervento della politica. Pronti a presentare un esposto della Procura della Repubblica e diversamente abili di Sciacca che, capeggiati da Totò Allegro e Luca Garofalo, continuano a lamentare l'assenza di scivoli adeguati per i cittadini costretti in carrozzina. L'80% di differenziati è appena il nostro punto di partenza, così oggi Carmelo Pace commenta l'inserimento di Ribera tra i comuni più virtuosi della Sicilia, ma l'opposizione attacca e dice adesso vogliamo la riduzione della tariffa. Elezioni regionali si vota domenica 5 novembre, lo ha deciso il governo regionale, Rosario Crocetta annuncia che si ricandiderà alla presidenza di Palazzo d'Orlean, si candidano anche Vittorio Sgarbi e il grillino Giancarlo Cancelleri. Scherma oltre 160 atleti oggi e domani a Ribera e al Palatornambe per la Coppa Italia regionale, nutrita la delegazione di schermidori dell'associazione Il Discobolo del maestro Pippo Simone Vullo, organizzatrice della manifestazione sportiva. Un cordiale saluto e bentrovati anche oggi ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Telemonte Cronio. L'avvertenza terme di Sciacca al centro della nuova puntata di Vesper, ospiti in studio Ignazio Cucchiara, Franco Zammuto, Alfredo Ambrosetti e Angelo Capo di Casa. Era quest'ultimo nel 99 il presidente di quel governo regionale che diede il via al processo di privatizzazione. Vediamo qualche anticipazione in questo servizio. L'avvertenza terme di Sciacca, la storia recente, le numerose leggi regionali che si sono susseguite, la chiusura, le possibili prospettive per il futuro. Questo è il tema al centro della nuova puntata di Vesper 2.0, in onda da oggi su Telemonte Cronio. Ospiti in studio Ignazio Cucchiara, Franco Zammuto, Alfredo Ambrosetti e Angelo Capo di Casa. Era lui l'inquilino di Palazzo d'Orlean, in carica nel 99 quando la regione approvò la prima legge che avrebbe dovuto aprire le porte alla privatizzazione. Qui c'è una determinazione specifica dei dirigenti per la chiusura delle terme di due anni fa. Lei dal punto di vista del politico, del presidente della regione, se lo fosse stato ancora? Se la politica lascia fare, la burocrazia invade il campo della politica. E' chiaro che lì ci sono responsabilità enormi. Io stesso mi sono preoccupato, dopo un incontro con i lavoratori che occupavano le terme, di promuovere un incontro al presidente della regione. Ho chiesto insistentemente, perché da lì a poco si sarebbero chiuse le terme, e quindi il rischio concreto di provocare ulteriori danni agli impianti, come poi... La scelta di legazione di famiglia. Era concreto, per cui ho detto, ma scusate, è proprio da scemi arrivare al punto di dover provocare danni talmente alti da dovere poi triplicare i costi, per cui li pagherà il pubblico, li pagherà la regione, perché quanto metterà sul mercato coloro che interverranno imprenditori privati, è chiaro che il prezzo si abbassa, il prezzo di questo asset si abbassa, quindi sono costi in più per la regione. E lei ci sta dicendo che era evitabilissimo? Evitabilissimo se ci fosse stata una volontà, diciamo, politica di intervenire. L'ultima legge, quella che ha clamorosamente autorizzato la regione a ricomprare beni che di fatto le appartenevano, prevede l'affidamento del patrimonio al comune, che dovrà poi avere il compito di pubblicare un bando per la scelta del partner privato. Qualunque sarà il sindaco, noi abbiamo il dovere tutti di essere presenti, fiancheggiare l'iniziativa del comune, attraverso comitate, attraverso iniziative spontanee. Dopodiché, tu sindaco, metti una tenda davanti alla presidenza della regione e noi non la smontiamo fino a quando loro non effettueranno la concessione al comune di Sciacca. Dici, ma sta tenda? La prima notte ci stai tu. Appresso il vice sindaco, poi gli assessori, consiglieri e poi i cittadini. Dobbiamo creare una situazione di emergenza, non ci interessa più, perché potremmo proporre anche una legge nuova. No, va bene questa qua. Concede subito al comune di Sciacca. Io sono convinto che lì c'è la strada. Se non si parte e visto che il comune ha avuto questa possibilità, la prenda al volo e dico, secondo me, avrebbe già dovuto cominciare a lavorare su un'ipotesi di bando. Per me questo è un problema molto relativo, perché è chiaro che una gestione trentennale o quarantennale delle strutture, perché si parla di un affitto di azienda, stiamo attenti, non si parla di una cessione, ma di un affitto di azienda, questo bando si può pensare in molti modi intelligenti. Soprattutto uno di questi potrebbe essere quello di stabilire una moratoria del canone di affitto per i primi 5, 6, 7, 8 anni, cioè laddove questi soggetti che intendono investire su questa gestione devono fare degli investimenti. Questa azione che dice Ignazio e di cui io mi sentirei di farmi carico, purtroppo deve prima passare attraverso anche qualche interlocutore politico. Io mi lamento che è il vicepresidente della regione, della provincia di Agrigento. Ma che l'avevo bello. Io ho potuto fare qualche telefonata rispetto a queste cose, ma io mi sono trovato più capo di casa, mi sono trovato più altra gente che ho sollecitato per la questione terme, che non la vicepresidente della regione, che è della provincia di Agrigento. Protesta a San Michele dopo l'ufficializzazione da parte di Unicredit della decisione di chiudere l'Agenzia del Banco di Sicilia. Anche la Chiesa in prima linea contro questo provvedimento. Sentiamo. Protesta la Chiesa, protesta il Comitato di San Michele, protesta anche un consigliere comunale. A San Michele si annuncia una sommossa popolare contro la decisione di Unicredit di chiudere l'Agenzia di Piazza Gerardo Noceto del Banco di Sicilia, un ufficio presso il quale sono registrati almeno 700 conti correnti. Effettivamente è un danno per la nostra piazza di San Michele. Credo che non è facile che loro si svegliano all'improvviso, si svegliano a dire chiudiamo la banca. Stiamo attenti perché ci sono dai 650 a 700 persone che sono correntissime qua. Quindi non è tanto facile che loro da oggi a domani dicono sì noi chiudiamo. Anche perché abbiamo parlato con il prete, tutto il quartiere di San Michele, tutto con noi. Quindi avete intenzione di protestare? Sì, alla grande. Non è possibile, io ho detto anni fa, e lo ripeto quando si parlava del mercato di San Michele, ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Mi pare che San Michele deve scomparire. E siamo di serie B. No, noi non ci stiamo a questo gioco, non ci stiamo per nessun motivo. Noi faremo di tutto, dico di tutto che la banca resta qua, anche perché i correntisti ci sono. La banca sta lavorando e loro ci debbano aiutare. Padre Pasqualino, la zona di San Michele e i suoi parrocchiani sono preoccupati per questa novità? Certo sono preoccupati perché per ora ci sono stati dei servizi e quindi la gente è stata contenta per questi servizi. Ma ora ogni tanto si sente dire che questi servizi dovrebbero essere tolti e c'è tanta preoccupazione perché dobbiamo considerare che San Michele è un quartiere, una città nella città. Se chiude questo sportello, le persone di qua dove vanno? Dove vanno? A maggior parte sono anziane. Io devo dire che quando vengo qui trovo sempre la stanza piena, quindi non è che vengono qualcuno, alcuni. Lei sta dicendo che non può essere considerato un ramo secco? No, non è un ramo secco, abbastanza. Io vedo sempre persone a tutti gli orari, vengo a tutti gli orari, a tutti gli orari sono tante persone. Cosa intendete fare adesso? Ma cosa dobbiamo fare se non raccoglierci e dire insieme che non dovete chiudere queste sportelle che sono utili e che servono a questa comunità? Altrimenti qua, diciamo veramente, non si sa. Il comitato di quartiere di San Michele intende promuovere una petizione popolare. Si invoca anche l'intervento della politica per scongiurare questa chiusura. Cerco, cercheremo pure i parlamentari nostri che abbiamo qua nella zona nostra. Chi ci sarà? Ci devono dare una mano di aiuto pure loro. Non è che ci arrendiamo facilmente. Ecco, il messaggio che lei può lanciare dal punto di vista, insomma, questo denaro che è il risparmio. Esatto, proprio come dice il Papa, l'uomo deve mettere a centro, le persone. Ecco, se si guadagna di meno, che cosa avviene? Ma però si servono di più le persone, tante anziane che devono spostarsi, a volte con difficoltà, io lo vedo qui, che per venire fino a qui hanno già delle difficoltà. Figuriamoci, insomma, di andare in altri luoghi. Quindi io direi di ripensare questa decisione ai responsabili, di rivedere questa posizione e di conservare questo sportello che è utile, utilissimo per la nostra comunità e la parrocchia qua di San Michele e tutto questo quartiere. E sulla chiusura dello sportello Unicredita San Michele intervengono oggi i consiglieri comunali di Sciacca Democratiche, e quali sostengono che sia necessario l'intervento delle istituzioni e della politica in generale per impedire di penalizzare il quartiere con la soppressione dell'importante sportello bancario. E all'amministrazione comunale, alla deputazione locale e provinciale, che Sciacca Democratica si rivolge, ricordando come anni fa fu proprio l'azione condotta dalle istituzioni cittadine ad impedire che nel medesimo quartiere venisse chiuso lo sportello di poste italiane. Per quanto ci riguarda, concludono i consiglieri di Sciacca Democratica, noi faremo la nostra parte. Siamo vicini al commentato di quartiere che è pronto a mobilitarsi e sollecitiamo l'amministrazione ad attivare contatti con i propri riferimenti politici ed istituzionali, regionali e nazionali, per impedire la chiusura dello sportello Unicredit. Sono pronti a presentare un esposto alla Procura della Repubblica i diversamente abili di Sciacca, che nonostante le diverse riunioni con l'amministrazione comunale continuano a lamentare da ben due anni la mancanza di scivoli adeguati al borgo dello stazione. Quelli presenti sul lungomare non sono stati realizzati con criterio ed andrebbero rifatti, hanno dichiarato ai nostri microfoni Totò Allegro e Luca Garofalo. Sentiamo Francesca Ciaccia. È dal 2015 che i diversamente abili di Sciacca chiedono vengano eliminate le barriere architettoniche presenti allo stazione. I scivoli inseriti nel lungomare durante la riqualificazione del borgo non sono stati realizzati a regola d'arte e sono pericolosi perché su carrozzina lamentano i saccensi. Diverse riunioni sono state organizzate con l'amministrazione l'ultima a febbraio, a seguito delle quali soltanto uno scivolo è stato sistemato. I diversamente abili capeggiati da Totò Allegro si dicono pronti adesso a presentare un esposto. Purtroppo il problema è che ormai qua i lavori sono stati dichiarati chiusi perché hanno fatto il collaudo, ma grado noi già prima del collaudo avevamo segnalato il problema degli scivoli e loro ci avevano assicurato che l'avessero sistemato. Una volta che però il collaudo è stato fatto non si può fare più nulla a meno che non si stanziano altre somme per poter riqualificare il tutto in base alle barriere. Vanno quindi rifatti? Sì, perché in uno c'è il tombino davanti e quindi è molto pericoloso. In questo di qua è molto pericoloso perché si cade. L'unica cosa positiva è che hanno sistemato il penultimo scivolo perché era pure pericoloso anche quello e l'hanno risistemato dopo l'ultima riunione dell'8 febbraio di quest'anno. Poi ci sono altri problemi che lasciamo, sorvoliamoli perché si sono stati dichiarati addirittura 18 scivoli inesistenti che già facevano parte del vecchio progetto che è sul lato dove ci sono le case che sono degli adroni e quindi non sono dichiarabili quelle che potrebbero essere scivoli per disabili. Considerato che fino adesso loro non hanno provveduto a poter sistemare tutto quanto noi siamo disposti eventualmente di fare un esposto alla Procura della Repubblica. Per fortuna però qualcosa è stato fatto per i disabili in pieno centro storico. È in cantiere un progetto lungo la via incisa. Da circa un anno si è messo mani ad un progetto per via incisa che noi già ne avevamo parlato più di quattro anni fa per rifare gli scivoli e tutto quanto. Da sei mesi c'è un progetto che è diventato esecutivo da pochi mesi e quindi si inizierà quanto prima a mettere mani a lavorare per rifare gli scivoli tutta la via incisa compreso lo scivolo dell'ex chiesa di Santa Margherita. Un ringraziamento va all'amministrazione, a Davide M in particolare ma a noi disabili e alla sovrintendenza che c'è stato un impegno collettivo per far modo che al giro di sei mesi si possa avere fatto un progetto e farlo diventare esecutivo nel breve tempo possibile. È la stessa cosa adesso sperata qui per lo stazione? Sì, per lo stazione si spera. Anche perché c'è una riqualificazione che è stata fatta. È un fiore all'occhiello della città di Sciacca come altri posti. Quindi perché non essere vissuto sia da normodotati che disabili. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Ancora polemiche sulla recente convenzione siglata tra tassisti e proloco per la gestione dell'Infopoint di Piazza Saverio Friscia. Ieri l'opposizione ha definito tale iniziativa un patetico tentativo dell'amministrazione di colmare in poche settimane cinque anni di inerzia totale stigmatizzando soprattutto la tempistica e cioè un affidamento che viene a due mesi dalla competizione elettorale con il chiaro obiettivo di recimolare voti e recuperare credibilità. Opposizione che ha accusato l'assessore Monti di aver receduto attraverso i suoi fedelissimi amici della proloco il gabbiotto di Piazza Saverio Friscia ai tassisti con un atteggiamento di padrone assoluto della città. Una struttura, concludeva la nota di ieri dell'opposizione, lasciata quasi inutilizzata per cinque anni e che oggi diventa teatro dell'ennesima sceneggiata in chiave elettorale. Oggi c'è la replica di Monte, trovo ridicola la nota dell'opposizione che ancora una volta ha perso un'occasione per stare zitta. Si attacca a un'iniziativa continua all'assessore finalizzata a dare un supporto ai tassisti figlia della collaborazione tra proloco e associazioni di categoria che il comune ha ballato in quanto ha visto una opportunità in più sia per gli stessi tassisti sia per chi deve ricevere informazioni. Invece di fare una normale e sacrosanta critica politica che ci può stare, conclude Salvatore Monte, l'opposizione condisce i propri comunicati con frasi che sono fuori dal mondo. Una opposizione di questo tipo non giova a nessuno. L'80% di raccolta differenziata per noi è solo il punto di partenza. Con la nuova gestione del servizio contiamo di arrivare al 90%. Così il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, commenta l'inserimento del suo comune tra i 24 più virtuosi in tutta la Sicilia per percentuale di raccolta differenziata. Abbiamo fatto il bene ad investire sulla campagna di sensibilizzazione informazione tanto criticata da alcuni, aggiunge poi il sindaco di Ribera. Ma seguiamo questo servizio. È soddisfatto il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, per i risultati che il suo comune ha raggiunto in termini di raccolta differenziata. Con l'80% di rifiuti differenziati, Ribera si colloca al secondo posto in Sicilia nella classifica dei comuni virtuosi. Adesso il nostro obiettivo è quello di arrivare al 90% con il nuovo sistema di gestione dichiara ai nostri microfoni il primo cittadino che poi si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe replicando a quanti nei mesi scorsi hanno criticato la campagna di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza promossa dal comune. Dice l'assessore Ferretto che addirittura siamo il secondo comune siciliano per raccolta differenziata. Ed è una soddisfazione che voglio condividere con la stragrande maggioranza dei miei concittadini. Questo risultato non arriva per merito del sindaco e dell'amministrazione, assolutamente no. Arriva per il merito, il grande senso di partecipazione e responsabilità dei miei concittadini. L'80% non è l'obiettivo, l'80% non è il fine. E' il mezzo che poi ci può portare, quindi uno stimolo nuovo, che ci può portare a quel traguardo che noi spieghiamo che è il 90%. Il risultato è stato una serie di fattori positivi. E in primis le voglio ringraziare a tutti gli operatori ecologici che fanno questo servizio. Poi una campagna di sensibilizzazione che abbiamo fatto, eravamo stati criticati perché abbiamo speso 25.000 euro per fare una campagna di sensibilizzazione. I risultati sono questi, siamo passati dal 25% all'80% in pochissimi mesi. Adesso dobbiamo mantenere e con la nuova gestione nostra, con la nuova società che sta per nascere, doteremo le famiglie di sacchetti, doteremo le famiglie anche di contenitori nuovi, doteremo il personale di mezzi efficienti che adesso non mancano, di vestiario di tutti gli strumenti perché, ripeto, con la nuova società il 90% di raccolta differenziata deve essere un risultato verificabile. Perché il 90%? Perché nonostante il costo del conferimento sia aumentato del 56%, quest'anno ci siamo potuti permettere il lusso di non aumentare le tasse su rifiuti. Ma non ci basta perché vogliamo ridurre le tasse su rifiuti e per farlo dobbiamo ancora una volta aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Il nuovo sistema di gestione del servizio intanto, previsto dal piano aro predisposto dall'amministrazione comunale di Ribera, che come è noto ha optato per la gestione in house, dovrebbe partire di qui a qualche mese. L'ultimo passaggio comunale è stato consumato con l'approvazione dello schema di statuto. Adesso manca soltanto un dettaglio, che è l'approvazione dello schema di bilancio, dopodiché si va dal notaio a costituire la società. Ormai è tutto pronto. Ma intanto le polemiche a Ribera sui rifiuti non si placano. Ok, a pergamene e medagliette, ma adesso attendiamo una riduzione della Tari. Così oggi il coordinamento giù le mani da Ribera, formato dai nuovi consiglieri di opposizione, che l'altra sera in Consiglio Comunale hanno votato contro l'approvazione delle tariffe Tari 2017, proprio perché, dicono, non c'è stata alcuna riduzione rispetto allo scorso anno. Seguiamo quest'altro servizio. Benvengano pergamene e medagliette, ma adesso attendiamo una riduzione della tassa sui rifiuti. È così che i consiglieri di opposizione al Comune di Ribera commentano la recente premiazione a Catania della città di Ribera, che grazie alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta si è piazzata tra i comuni siciliani più virtuosi. Alla luce di tale risultato, aggiunge il coordinamento giù le mani da Ribera, ci saremmo aspettati una riduzione della Tari, cosa che tra l'altro è avvenuta in tantissimi comuni. A Ribera, invece, non c'è stata alcuna riduzione, ed è per questo, spiegano i nove consiglieri di minoranza, che l'altra sera in Consiglio Comunale, quando all'ordine del giorno c'era proprio l'approvazione della tassa sui rifiuti 2017, abbiamo votato contro, visto che i costi della spazzatura per il 2017 sono gli stessi di quelli gravosi del 2016. Ed ancora, aggiunge l'opposizione, durante il dibattito consigliare, l'amministrazione ha dato risposte evasive, e approssimative imprecise su cifre e costi, e non sono state fornite notizie sui costi della spazzatura conferita lo scorso anno nella discarica di lentini e in altre discariche. Tornando alla percentuale di raccolta differenziata, i nove consiglieri fanno notare che in comuni come Sambuca, Santa Margherita, Montevago, Menfi, anch'essi virtuosi ma con una percentuale di differenziata inferiore rispetto a quella ottenuta dal comune di Ribera, le tariffe della Tari sono state abbassate, con un risparmio in bolletta per i cittadini. Per i riberesi invece, nessun risparmio. I consiglieri Danna, Dazzo, Farruggia, Livoti, Lupo, Mulè, Quartararo, Turano e Vassallo, nell'annunciare che sull'argomento presenteranno nei prossimi giorni una interrogazione, concludono sostenendo che premi e pubblici riconoscimenti hanno un senso soltanto se tutto ciò avviene a coronamento di servizi efficienti e di vantaggi economici per i cittadini, veri artefici e protagonisti, insieme agli operatori ecologici, della raccolta differenziata a Ribera. Già fissata la data per le prossime elezioni regionali, si voterà domenica 5 novembre. Intanto cominciano a venire fuori i primi candidati alla presidenza. Si tratta di Rosario Crocetta, che punta sul proprio movimento Riparte Sicilia e del critico d'arte Vittorio Sgarbi. Tra i 5 stelle quasi sicura la candidatura di Giancarlo Cancelleri. Il punto in questo servizio. Si scaldano i motori anche per le elezioni regionali. Già fissata la data, si voterà domenica 5 novembre. Lo ha annunciato il governatore Rosario Crocetta, che ha deciso di prendersi il massimo del tempo possibile per allungare la campagna elettorale. Crocetta ha deciso di ricandidarsi con il proprio nuovo movimento, che si chiama Riparte Sicilia, in contraposizione al Partito Democratico, che di fatto lo ha scaricato al pari di Sicilia Futura, il partito di Cardinale Cascio e Cimino. Gli ultimi mesi di governo in pratica saranno portati avanti con una maggioranza ridotta ai minimi termini. Eppure vi sono ancora importanti risultati da raggiungere, come il via dei cantieri del cosiddetto Patto per il Sud e l'approvazione del bilancio e della manovra finanziaria che dovrebbero avvenire entro aprile. A sei mesi dalle elezioni cominciano a venire fuori i primi candidati alla presidenza. Oltre a Crocetta ha già annunciato la propria discesa in campo il critico d'arte Vittorio Sgarbi, che, per migliorare i conti e l'occupazione, ha intenzione di puntare sulla cultura e sulla bellezza della Sicilia. Sarà della partita il Movimento 5 Stelle. Il candidato in pectore dovrebbe essere Giancarlo Cancelleri. A maggio si consumerà il consueto passaggio delle votazioni online. La coalizione di centrosinistra, capitanata dal PD, dovrebbe puntare sulle primarie per scegliere il proprio candidato, mentre il centrodestra punta su un accordo che possa essere condiviso da tutti gli alleati. Si fanno i nomi di Nello Musumeci e Gaetano Armao. Saranno nella partita i Forconi, con Mariano Ferro, l'ex dirigente regionale Franco Busalacchi e l'ex rettore universitario Roberto Lagalla, con i rispettivi movimenti. Il Comune di Sciacca dovrà risarcire il suo dipendente, Totò Allegro, con circa 40.000 euro. Lo ha deciso il Tribunale, accogliendo il ricorso del leader delle battaglie dei disabili, che lamentava il peggioramento delle sue condizioni fisiche a causa delle sue mansioni lavorative. Per saperne di più, seguiamo il servizio. Il Comune di Sciacca dovrà risarcire con 40.000 euro il dipendente comunale, Salvatore Allegro. Lo ha deciso il giudice del lavoro del Tribunale, Antonino Cucinella, che ha accolto il ricorso presentato dallo storico leader di mille battaglie dei disabili sul territorio seccenze. Per il Tribunale, in particolare, le mansioni lavorative svolte da Allegro ne hanno peggiorato le condizioni di salute. In particolare, Allegro lamentava la difficoltà nell'operare, stando in posizione curvata sulla scrivania per quasi tutto l'orario giornaliero. Eppure, Totò Allegro già dieci anni fa aveva chiesto di essere adibito a mansioni diverse, con un tavolo adeguato alle sue condizioni di disabile. Un tavolo che non lo costringesse, in buona sostanza, a stare in una posizione curvata sulla scrivania. La stessa commissione medica di verifica di egrigento riconobbe la non idoneità di Totò Allegro a svolgere le mansioni alle quali era preposto, significando anche la necessità che l'impiegato venisse adibito a mansioni finalizzate, a non peggiorare le sue condizioni. Tuttavia, il comitato di verifica per le cause di servizio di Roma si pronunciò negativamente, sostenendo in parole povere che se le condizioni fisiche di Allegro erano peggiorate, questo non era da debitare a presunti strapazzi e disagi dell'attività lavorativa da lui svolta. Il comune di Sciacca, dal canto suo, nel respingere la richiesta di applicazione a mansioni diverse, si è tenuto al parere di questo comitato. Eppure Totò Allegro ha presentato ricorso al Tribunale, e il Tribunale gli ha dato ragione, riconoscendogli così l'equo indennizzo calcolato in 39.664 euro. Equo indennizzo che formalmente si è trasformato in uno dei tanti debiti fuori bilancio maturati al comune di Sciacca, debito fuori bilancio riconosciuto nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Ben trovati in studio, adesso è il momento dei consigli della libreria Mondadori. Due protagonisti, Claudia e Cecilia, voci narranti, Lui, quarantenne cubano, trapiantato a New York, è impiegato in una casa editrice e ha una relazione discontinua con una donna più matura. Lei, 25enne, di origine messicana, è stata cresciuta dal padre e dalla nonna e dopo l'abbandono della madre si è trasferita a Parigi per studiare. Lui è eccentrico, narciso e maniacale, lei timida e introversa, eppure il caso li fa incontrare e innamorare l'uno dell'altra. Un originale romanzo che con intelligenza e ironia si interroga sulle, a volte inaspettate, conseguenze dell'amore. Quando finisce l'inverno, di Guadalupe Nettel, edito in Audi. Siamo allo sport, è organizzata dall'Associazione Sportiva di Scobolo di Sciacca la manifestazione in programma oggi e domani al Palatornambe, che ospiterà la Coppa Italia regionale di scherma, valevole come fase di qualificazione per la prova nazionale assoluti. Circa 160 partecipanti, divisi nelle tre specialità, sciabola, spada e fioretto. Domani, sempre a Ribera, nell'area di ammassamento, si svolgerà il campionato regionale di pattinaggio di corsa su strada. Nostra intervista all'assessore allo sport, Cristina Cortese. Sentiamo. Sono oltre 160 gli atleti che oggi e domani parteciperanno alla Coppa Italia regionale di scherma 2017, valevole come fase di qualificazione per la prova nazionale assoluti. Ad ospitare la manifestazione organizzata dall'Associazione Sportiva di Scobolo di Sciacca sarà il Palatornambe di Ribera, che per la prima volta apre le porte ad un evento di scherma. A Ribera ci sarà dunque il meglio della scherma per tentare la qualificazione ai campionati italiani assoluti. Sabato e la domenica il palazzetto Nino Tornambè di via Berlinguer ospiterà la Coppa Italia regionale di scherma. Una manifestazione organizzata dall'Associazione Sportiva di Scobolo di Sciacca in collaborazione con il CONI e con il patrocinio del comune di Ribera. Ovviamente è una manifestazione essendo una Coppa Italia per la qualificazione regionale che attirerà sportivi da gran parte della Sicilia. Ovviamente è un ritorno economico anche per la nostra città perché ovviamente essendo in due giorni ospiteremo nelle nostre strutture ricettive i partecipanti. Ma la Coppa Italia regionale di scherma non è l'unico evento sportivo del fine settimana a Ribera. La città delle Arance ospiterà domani anche il campionato regionale di pattinaggio di corsa su strada. Sempre domenica, altro evento invece che si svolgerà nell'area di ammassamento della protezione civile sita nei pressi del cimitero e invece lì si svolgerà il campionato regionale di pattinaggio su corsa organizzato dalla Polisportiva Agis di Agrigento. E anche in quella giornata per quell'evento sicuramente si prevede una grande presenza di pubblico. Trasferta nazionale per la Ippon Karate Lentini di Sciacca. L'atleta Michele Sclafani accompagnato dal maestro Marco Lentini sarà a Ostia Lido per prendere parte al campionato italiano assoluti di Kumite proposto alla federazione Fisilcam. Alla competizione parteciperanno i principali campioni italiani ed europei di specialità. Sclafani si troverà nella stessa categoria del pluricampione del mondo Luigi Busa. Si tratta di una gara importante nell'ambito del quadriregno olimpico in prospettiva di Tokyo 2020. Era l'ultima notizia, siamo in chiusura. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Non mi resta che augurarvi di trascorrere un felice e sereno fine settimana. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.